Domani a Ribere, funerali di Giuseppe Terrasi. L'agricoltore è morto ieri in un incidente sulla Statale 115. Sotto accusa oggi l'impradicabilità delle strade rurali, che costringe i produttori a percorrere le ancora meno sicure statali. Maggioranza K.O. in consiglio, bocciati sia il piano trennale delle opere pubbliche, sia la determinazione del prezzo delle aree per attività artigianali. Fabio Termine chiede le dimissioni del sindaco, Simone Di Paola replica, non accettiamo ricatti. La scelta del comune di Sciacca in Senoallati sarà per la società consortile, ma chi pensa che questo non avrà controindicazioni non sa di cosa parla. Così al nostro Tg, la Valenti, chiarisce la sua posizione sulla gestione dell'acqua. Eccoli gli scheletri di quelle che diventeranno le villette di lusso vicino il Verdura Golf e Spa Resort. Lavori in corso per le prime venti delle 40 strutture, che attrarranno ospiti VIP in tutta Sciacca, che però rischia di farsi trovare impreparata. Torna alla normalità il servizio ai rifiuti, ma all'orizzonte potrebbero esserci nuovi disagi. Il comune di Sciacca è uno di quelli in grado di accogliere l'invito dell'assessore Piero Bonna a nominare ispettori ambientali volontari. È arrivata, secondo al concorso Miss Cinema 2019, la sacenze Veronica Bono, il concorso di bellezza che si è tenuto sabato scorso a Cinecittà. La giovane ha avuto questa opportunità, dopo la recente vittoria, a Creazioni sotto le stelle. Gordiale benvenuti anche oggi al nostro telegiornale. Saranno celebrati domani pomeriggio a Ribera, all'interno della Chiesa Madre, i funerali di Giuseppe Terrasi, l'agricoltore di 58 anni morto ieri a seguito dell'incidente sulla statale 115 all'interno della Galleria Magone. E mentre si cerca di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, sotto accusa finisce, e non solo la galleria, dove l'illuminazione andrebbe potenziata, ma anche le strade rurali impraticabili che costringono produttori e agricoltori a percorrere le strade statali. Sentiamo. Ha destato tanta commozione a Ribera la notizia della morte di Giuseppe Terrasi, l'uomo di 58 anni che ha perso la vita ieri mattina a seguito dell'incidente stradale, verificatosi all'interno della Galleria di Magone, tra il bivio di verdure e quello di Piana Grande. Terrasi, sposato, padre di due figli, agricoltore e commerciante, era assai conosciuto e stimato in città. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio all'interno della chiesa madre di Ribera. L'uomo era alla guida di un trattore che ad un certo punto si è scontrato con un grosso autocarro che procedeva nella medesima direzione. Immediati soccorsi sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118, ma per il conducente del mezzo agricolo non c'è stato niente da fare. È deceduto a causa delle gravissime ferite riportate a seguito del violento impatto con il camion. Il trattore, guidato da Terrasi, è letteralmente volato schiantandosi contro la parete della galleria. Sul posto per i rilievi di rito sono giunti i carabinieri della tenenza di Ribera, la polizia stradale di Sciacca, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma anche i vigili del fuoco del distaccamento Saccense, gli operatori dell'ANAS e la polizia municipale di Ribera. Il traffico veicolare nella zona è rimasto bloccato per quasi due ore. Alla guida dell'auto articolato, un grosso camion che trasportava liquidi in una cisterna, un giovane originario di Alcamo. A seguito dell'urto Giuseppe Terrasi è stato sbalzato dal sedile del suo trattore finendo sull'asfalto. Sotto accusa finisce non solo la galleria di Magone, poco illuminata e teatro anche in passato di altri incidenti mortali, ma anche le condizioni della viabilità rurale, con tantissime arterie del comprensorio impraticabili e che costringono i produttori a percorrere con i propri mezzi agricoli le altrettanto poco sicure strade statali. Sono stati bocciati ieri sera dal Consiglio Comunale di Sciacca due dei punti propedeudici all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019-2021, tra questi anche il piano triannale delle opere pubbliche. Fabio Termine ha proposto l'approvazione di questi punti a condizione che il sindaco si dimetta. Non accettiamo ricatti, ha replicato Simone Di Paola. Ce ne parla Massimo D'Antonio. Non era una novità che la maggioranza non avesse più i numeri sufficienti a far passare i punti proposti dall'amministrazione, ma ieri sera in Consiglio Comunale questo problema è emerso in maniera piuttosto plastica. Il no finale tra voti contrari e estensione al piano triannale delle opere pubbliche, punto propedeutico all'atteso bilancio di previsione, è un fatto senza precedenti in un ambito nel quale l'amministrazione ha tentato di presentare un emendamento al suo stesso documento per finanziare dei lavori alla biblioteca. Emendamento approvato, mentre si è vista costretta poi a ritirare un altro emendamento, quello per la collocazione di un tappetino in erba sintetica al campo alternativo Giuffre per mancanza di copertura finanziaria. Tutto vano comunque perché alla fine il piano è stato bocciato. Bocciato anche il punto sulla determinazione del prezzo per le aree pubbliche da destinare ad attività produttive. Troppi per l'opposizione, 60 euro al metro quadro stabiliti già da tre anni. Adesso bisogna tornare in aula con nuove proposte per ottenere il Via Libera, un doppio KO, quello subito dall'amministrazione in sala Falcone e Borsellino, con una equiparazione tra voti della maggioranza e quelli dell'opposizione, 12 a 12. Mandracchia, malgrado le minacce di collocazione dall'altra parte, è rimasto nei ranghi. Ne è scaturito però un dibattito nel corso del quale Fabio Termine ha chiesto a Francesca Valenti di prendere atto della situazione e di dimettersi. Basta ricatti, ha replicato Simone Di Paola, sollevando il tema di un Consiglio comunale che, bocciando i punti bocciati, non ha fatto certamente l'interesse della città, ma a sollevare la necessità di modificare il quadro dei rapporti con l'opposizione sono stati non solo Paolo Mandracchia, ma anche lo stesso Alberto Sabella. Sullo sfondo c'è un clima difficile, quello che registra una forte contrapposizione nella quale, prima del voto finale sul bilancio, devono ancora inserirsi punti fondamentali come il piano dell'alienazione e della valorizzazione degli immobili comunali, il piano economico e finanziario del piano Aro, il documento unico di programmazione, quella che un tempo era la relazione previsionale e programmatica, e in ultimo lo schema di bilancio triennale 2019-2021, schema su cui è atteso nelle prossime ore il parere definitivo del Collegio dei Revisori dei Conti, prima dell'approdo in Commissione, Bilancio e Finanze. Il tutto mentre gli uffici stanno verificando la rispondenza tra i dubbi sollevati ieri dall'opposizione e la scadenza del 31 ottobre per poter procedere alla stabilizzazione dei precari. Francesca Valente ha chiesto una relazione urgente, pare di capire che si preferisca scongiurare il pericolo che salti tutto, puntando dunque sul via libera definitivo, confermando la fine del prossimo mese di ottobre, un tema a quello riguardante i prossimi tre anni che ha caratterizzato diversi degli interventi in aula. Il Consiglio ha approvato anche un debito fuori bilancio da 20.000 euro, debito questo prelevato da un lungo elenco su cui i consiglieri Calogero Bono, Giuseppe Meliodi e Paolo Mandracchia, già in Commissione, Bilancio e Finanze, ma anche lo stesso Alberto Sabella, hanno sollevato dubbi sul metodo discrezionale utilizzato dall'amministrazione degli uffici. In apertura dei lavori sulla vicenda della prossima indicazione che il Sindaco darà in sede di Assemblea ATI in ordine alla futura gestione delle risorse idriche, è venuto fuori uno scontro tra Francesca Valente e Calogero Bono, quest'ultimo accusato alla Sindaca di non aver espresso chiaramente la propria opinione, accusa respinta dalla Valenti. Sono per l'azienda consortile, ha detto, pur non nascondendo la propria preoccupazione per questa decisione, il Consiglio dovrà essere riconvocato. Dirò di sì all'azienda speciale consortile per la gestione dell'acqua, ma chi pensa che sia una scelta senza controindicazioni non sa di cosa parla. Così oggi al nostro telegiornale Francesca Valente ribadisce l'impegno assunto ieri sera in Consiglio Comunale. Ascoltiamo il Sindaco intervistata da Massimo D'Antonio. Il giorno 27 ci sarà questa attesa assemblea, tutti si sono domandati anche ieri in Consiglio quale sarà la scelta per la quale propende il Sindaco di Sciacca, insomma ce la vuole confermare? Sicuramente la soluzione più accompagnata da quella che è la volontà popolare e quella dell'azienda speciale consortile, quindi comunque propende dall'azienda speciale consortile, ovviamente però con la consapevolezza che è una scelta complicata, perché è una scelta che ha delle ricadute sui bilanci dei comuni e quindi che sicuramente non è una scelta semplice. Quindi questo significa che per quello che mi riguarda Sciacca sarà per l'azienda speciale consortile, se mai dovesse esserci una maggioranza diversa, si voterà all'unanimità quello che la maggioranza ritiene e decide. Quindi ci si adeguerà alla maggioranza? Sì, perché a mio avviso dall'assemblea deve uscire una scelta all'unanimità, perché altrimenti sarebbe una scelta debole in partenza. E soprattutto se parliamo di un'azienda speciale consortile, che è una scelta molto forte, molto impastante e anche abbastanza pericolosa, è evidente che a maggior ragione deve essere una scelta condivisa da tutti, che deve uscire all'unanimità dall'assemblea. Perché secondo lei la società consortile è più onerosa, diciamo più pericolosa rispetto alla società per azione per il comune? Cioè il problema, l'unico problema, perché poi sono delle forme di gestione tutto sommato simili, perché sono comunque gestione pubblica, per quanto l'acronimo SPA spaventi un po' tutti, perché rimanda ad una gestione privata che ci vede particolarmente scottati, e quindi tutti quanti noi siamo portati a dire SPA no, facciamo l'azienda speciale consortile, me compresa. Però è pur vero che l'azienda speciale consortile composta che un'eventuale perdita dell'azienda speciale ha una ricaduta sul bilancio dei comuni consorziati. Quindi se questa azienda dovesse chiudere in perdita, quella perdita vi vincola risorse dentro il bilancio del comune di Sciacca sulla spesa corrente. E questo per esempio, in questo momento nel nostro bilancio, se ad oggi ci fosse una quota vincolata appartenente all'azienda speciale consortile, noi non avremmo come chiudere il bilancio. Quindi c'è questo rischio e questa preoccupazione, che credo che sia una preoccupazione assolutamente legittima. Chi parla dell'azienda speciale consortile come la scelta migliore che non ha controindicazioni, non mi vede d'accordo. Noi stiamo operando una scelta, ma dobbiamo essere consapevoli di quello e del rischio che corriamo. Verrà fatta con questa consapevolezza e quindi nella speranza poi che tutto venga gestito nel modo migliore per evitare che il nostro comune, così come gli altri comuni, abbiano delle conseguenze veramente favorevoli per la scelta operata. Lei ha ribadito che i commissari prefettizi avrebbero preferito, tra virgolette, una soluzione diversa? Sì, i commissari prefettizi, ma anche i nostri consulenti, a dire il vero, perché ovviamente, ripeto, è una scelta difficile. E in vista della data del 27 settembre prossimo, giorno in cui sarà assunta la decisione sulla futura forma di gestione del servizio idrico, il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua sollecita associazioni politici a schierarsi per una gestione pubblica e partecipativa attraverso la costituzione di un'azienda speciale consortile. Dello stesso avviso e per la medesima scelta è l'Assemblea del Movimento 5 Stelle di Ribera che in una nota si schiera per la società consortile e non per la SPA pubblica. Movimento 5 Stelle che fa sapere di aver invitato l'amministrazione comunale a una discussione aperta in Consiglio Comunale sul tema della gestione dell'acqua. Invito che non avrebbe ritrovato riscontro. Occupiamoci adesso delle villette di lusso di Roccoforte. Gli scheletri di quelle che trasformeranno questo scorcio di verdura in un villaggio super esclusivo sono già in piedi. Sui tempi burocratici a lungo dilatati per la realizzazione delle ville di lusso al verdura, questione su cui la Roccoforte Hotels punta da almeno dieci anni, negli anni scorsi la società del magnate italo-inglese aveva perfino presentato un ricorso al TAR contro il comune di Sciacca. Certo, poi lo ritirò e a suggellare la pace arrivò pure alla cittadinanza onoraria Sir Roccoforte conferitagli dall'allora sindaco Fabrizio Di Paola. Adesso che al verdura gli scheletri delle ville si vedono fisicamente, questa pagina di storia può dirsi definitivamente conclusa. E dunque nascerà qui, ormai a breve, sul bel vedere del Golf & Spa Resort, un villaggio super esclusivo che porterà alla periferia est di Sciacca residenti da seconde case, per loro saranno magari le decime, capitani di industria e manager di grido. Quelle in costruzione sono le prime venti delle 40 villette di un investimento complessivo ultramilionario che si avvale anche di un contributo intercettato dalla Roccoforte Hotels da 20 milioni di euro, su cui la società ha ottenuto un sostegno importante, quello di invitare o ex sviluppe tale che dir si voglia. Lavori, quelle tuttora in corso iniziati nei mesi scorsi, dopo il via libera alla necessaria variante urbanistica concesso dal Consiglio Comunale di Sciacca lo scorso anno, nell'ambito di un progetto che ha permesso alle casse comunali di incassare almeno 300 mila euro di oneri di urbanizzazione secondaria e di contributi sui costi di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione primaria, così prevede l'accordo, li realizzerà la stessa Roccoforte. Al lavoro al verdura c'è un ati, composto da almeno tre imprese, decine gli operai all'opera, proprio al confine tra il Golf Resort e il complesso di Torre Macauda. Il progetto iniziale, per la verità, prevedeva la costruzione di 87 villette, poi si preferì ridimensionare tutto, riducendo l'investimento pur mantenendo la stessa volumetria, i lavori sono a buon punto, poi inizieranno quelli per la seconda tranche. Nel frattempo però Roccoforte potrà già vendere le sue ville, pare che ci siano già richieste importanti da ogni parte del mondo. La Gran Bretagna naturalmente al primo posto in barba ad una Brexit isolazionista che se mette in crisi qualcuno, questi sono solo i governi e i ceti medi, non certamente i nababbi. Rimane pacifico che per Sciacca questo villaggio sia un'opportunità straordinaria e questo ben al di là degli introiti da oneri di urbanizzazione, la nascita di quelle che definire villette rischia peraltro di farci fare ricorso solo ad un eufemismo, è importante sul piano di un'immagine di questo territorio che deve pensare, oltre a lamentarsi su Facebook, anche ad agire, ad essere finalmente migliore della impersonale classe politica su cui agevolmente si punta continuamente il dito. Sciacca continua a godere di fortune immense, tipo l'interesse di persone di un certo livello economico e anche culturale su questo territorio, rimane tuttavia quella locale, salvo eccezioni per fortuna in incremento, una collettività ancora sostanzialmente stra-paesana che sta attenta a non sporcare solo se si trova in Svizzera, mentre qui pensa che tutto sia permesso. E allora che ben venga il villaggio di lusso al verdura, ma se vogliamo che queste persone vengano qui, dobbiamo fargli trovare il meglio che Sciacca sa offrire in termini di servizi e di decoro. E su questo l'amministrazione comunale deve fare molto, ma molto di più di quanto non stia facendo, ma se si pensa che sia solo una competenza esclusiva dell'amministrazione, allora ci si sbaglia di grosso. Dopo due giorni di disagi, lunedì per il mancato ritiro dell'umido e ieri per la raccolta del secco che in qualche zona non è avvenuta, oggi la situazione è tornata alla normalità. Stiamo parlando di rifiuti. Intanto per contrastare il fenomeno dell'abbandono, la regione siciliana ha inviato un atto di indirizzo ai comuni per incentivarli alla nomina degli ispettori ambientali volontari. Sciacca è uno di questi comuni pronti a farlo, visto che il 26 giugno scorso il Consiglio Comunale ha approvato proprio il regolamento per l'istituzione della figura di ispettore ambientale comunale. Ma ne parliamo nel servizio. Ritiro regolare dell'umido questa mattina in tutte le zone della città dove viene effettuato il servizio porta a porta. Torna alla normalità la situazione dopo due giorni di disagi. lunedì per la mancata raccolta della frazione umida senza alcuna preventiva comunicazione ai cittadini e ieri per la raccolta del secco che in alcune zone non è stata effettuata per l'indisponibilità di alcuni mezzi delle ditte che effettano il servizio e che erano ancora pieni di umido che non era stato possibile conferire al centro di compostaggio di Contrada Santa Maria. In tema di rifiuti intanto per ciò che concerne il triste fenomeno dell'abbandono selvaggio e indiscriminato scende in campo la regione siciliana che con l'assessorato all'energia e servizi di pubblica utilità ha inviato un atto di indirizzo ai comuni per incentivarli alla nomina degli ispettori ambientali volontari figure già richiamate nell'ordinanza del presidente della regione nell'Omusumeci del dicembre 2018. In pratica spetta direttamente ai comuni regolamentare l'attività di questi lavoratori che potranno affiancare la Polizia Municipale ad esempio nelle attività di controllo ambientale e di verifica delle violazioni inerenti la raccolta e il conferimento. Potranno anche segnalare il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali sul deposito e gestione dei rifiuti partecipare ad attività formative ed educative in favore dei cittadini ma anche prevenire danni al decoro urbano e all'ambiente. Come chiarito dall'ufficio legislativo e legale spetta ai comuni con apposito regolamento comunale stabilire le funzioni, le modalità di nomina i criteri di scelta e di svolgimento della necessaria formazione degli ispettori. Viene inoltre ribadito che l'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito senza che possa sorgere un rapporto di lavoro o diritti di altra natura. L'ispettore ambientale volontario precisa ancora l'assessorato regionale potrà essere destinato solo a segnalare alla Polizia Municipale le eventuali irregolarità riscontrate mentre spetterà sempre agli addetti al servizio o alla Polizia Municipale l'autorità di accertare gli illeciti e le violazioni e di fare dunque le multe. Sciacca è uno di quei comuni che può dare seguito all'atto di indirizzo dell'assessore Piero Bonne risale infatti al 26 giugno scorso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento per l'istituzione della figura di ispettore ambientale l'avvio del servizio potrà avvenire in ogni caso solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Passiamo alla rubrica dedicata alle vostre segnalazioni non solo perdite idriche e lavori lasciati a metà da Girgentiacque oggi vi parliamo anche della segnaletica verticale leggibile in via Ghezzi e di un fatto accaduto in via Licata durante un'operazione di soccorso il traffico è rimasto bloccato per parecchio tempo perché tra l'ambulanza in sosta e i paletti dissuasori non vi era abbastanza spazio per permettere alle auto di circolare sentiamo E ancora una volta l'incrocio in via Ghezzi con lo scorrimento veloce al centro della rubrica delle vostre segnalazioni è stato proprio un automobilista a fermarsi all'incrocio e a documentare come la segnaletica verticale completamente vetusta e arrugginita vada sostituita celermente non solo le direzioni indicate sono praticamente leggibili ma addirittura quella per Palermo è girata verso Ribera insomma un incrocio che tra pari della pubblica illuminazione spenti e impalcatura della segnaletica arrugginita avrebbe necessità di un intervento risolutivo da parte dell'ANAS in pieno centro storico in via Giuseppe Licata ci segnalano invece una questione non di poco conto sabato scorso un'ambulanza è stata costretta ad accostarsi sul lato sinistro della strada per prestare soccorso data la presenza a destra dei dissuasori di posteggio in gomma i paletti per intenderci la carreggiata si è ristretta a tal punto da non permettere ai mezzi di circolare per tutto il tempo delle operazioni di soccorso il traffico nella centralissima via Licata è rimasto bloccato un episodio che dunque solleva un problema che potrebbe ripresentarsi in futuro e per cui occorre trovare al più presto una soluzione passando alle più classiche delle segnalazioni vi mostriamo le immagini di un lavoro di Girgenti Acqua e lasciato a metà siamo in via delle Dalie proprio nei pressi della sede della nostra emittente mesi fa all'inizio dell'estate operatori della società sono intervenuti per sistemare almeno questo era l'intento una perdita idrica ad oggi però lo scavo non è stato coperto il lavoro lasciato a metà è stato semplicemente transennato diventando un ostacolo per chi la percorre in macchina o su altri mezzi oltretutto quando piove tutta la terra crea un pantano lungo la strada ancora una volta dunque torniamo a chiedere a Girgenti Acqua di concludere l'operazione asfaltando l'area interessata dai lavori altro must delle vostre segnalazioni sono le perdite idriche che trasformano le strade in fiumi in piena è il caso della via Dante Lighieri che per questo aspetto non ha mai trovato pace innumerevoli le perdite idriche che in più punti hanno interessato la strada questa volta si tratta inoltre di un guasto non di facile risoluzione poiché sembra che l'acqua erogata si disperda da dietro un muretto che si trova nella parte bassa del retro della sede centrale dell'istituto comprensivo Dante Lighieri intanto litri e litri d'acqua non raggiungono le abitazioni vicine e si disperdono sull'asfalto da circa due mesi anche in questo caso si attende ancora che Girgenti Acqua intervenga Centro medico legale INPS di Sciacca il Movimento 5 Stelle al lavoro per evitare la chiusura nello scorso mese di maggio il Presidente nazionale dell'INPS Pasquale Tridico aveva rassicurato i parlamentari del Movimento 5 Stelle Rino Marinello e Matteo Mangiacavallo sul fatto che i servizi essenziali per i cittadini sarebbero stati garantiti e che la sede di Sciacca non sarebbe stata né chiusa né ridimensionata nonostante la determina del suo precedessore Tito Boeri che sopprimeva i centri medico-legali operanti presso le sedi territoriali l'INPS di Sciacca sarà presto trasferita in zona Perriera nello stesso palazzo che ospita l'Agenzia delle Entrate e presso la nuova sede non sono previsti locali per ospitare ambulatori medici il deputato Filippo Perconti ha dunque incontrato il direttore regionale dell'INPS per la Sicilia Sergio Salta Lamacchia riscontrando la volontà di mantenere attivi i servizi oggi assicurati dal centro medico legale di Sciacca previ alla disponibilità di locali adatti a tale scopo a seguito di tale interlocuzione parlamentari saccensi Matteo Mangiacavallo e Rino Marinello hanno sondato positivamente la disponibilità dell'ASP di Agrigento di mettere a disposizione dell'INPS di Sciacca stanze dell'exambulatorio o del nuovo ospedale attualmente libere si attende alla risposta del direttore generale Giulio Santonocito e nel frattempo il senatore Rino Marinello ha chiesto un nuovo incontro con il presidente Tridico atteso nei prossimi giorni sulla scia dell'iniziativa Compra Siciliano Vivi Sano al via anche la campagna Compra Sfuso a lanciare l'iniziativa il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello sono sempre più allarmanti i dati sull'inquinamento ambientale spiega il senatore dovuto principalmente alla plastica possiamo cominciare a ridurne il consumo continua Marinello comprando prodotti sfusi e detersivi alla spina e dando seguito anche alle indicazioni contenuti nella bozza del decreto ambiente presentata nei giorni scorsi dal ministro dell'ambiente Sergio Costa che prevede maxi sconti sui saponi o prodotti alimentari sfusi privi di confezione di plastica e non solo agli esercenti di attività commerciali che acquistano tali beni il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022 ai soggetti acquirenti verrà invece applicato uno sconto sia sui prodotti per l'igiene e la pulizia sia sui prodotti alimentari come frutta e verdura che spesso sono sommersi da imballaggio aziende sequestrate e confiscate quale futuro porta questo titolo l'iniziativa della filea CGL in programma lunedì prossimo a 30 settembre a Montevago al Baio in Goia presso i ruderi della cittadina devastata dal terremoto iniziativa che si terrà appunto a Santa a Montevago dove ancora operano due aziende confiscate in via definitiva Calcestruzzi Belice SRL e Inerti SRL ed altre interessate da provvedimenti di sequestra che non sono più in attività resta con i piedi per terra e spera che quella di sabato sia un'occasione che possa aprirle altre strade Veronica Bono 24enne Saccense che si è giudicata il secondo posto e la fascia di Missi Simpatia a Missi Cinema Ok Il concorso di bellezza che si è svolto sabato scorso a Cinecittà a cui Veronica ha partecipato dopo essere stata eletta Missi Creazioni Sotto le Stelle lo scorso 8 settembre Sentiamola Si è giudicata il secondo posto e la fascia di Missi Simpatia alla 24enne Saccense Veronica Bono sabato scorso nell'ambito del concorso Missi Cinema Ok che si è svolto a Cinecittà concorso di bellezza che permette alle giovani partecipanti 75 in questo caso di affacciarsi al mondo del cinema e ai casting grazie alla presenza nel corso della serata di diversi registi autori di cinema A Cinecittà e al concorso Missi Cinema Ok Veronica Bono è arrivata dopo aver partecipato l'8 settembre scorso a Creazioni Sotto le Stelle la manifestazione di moda e bellezza organizzata da un sudalizio di parrucchieri in cui la 24enne è stata selezionata per Missi Cinema Ok È stata un'esperienza fantastica non è tutto il rose e fiori come vediamo ci sono dietro tantissime 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 prove ovviamente non eravamo modelle non siamo modelle per alcune sono state pure le prime le prime volte diciamo davanti a un pubblico quindi è stata un'esperienza indescrivibile si può dire sei arrivata al secondo posto Miss Simpatia è un diciamo un titolo che ti calza a pennello mi rispecchia tantissimo almeno così dicono pure perché io magari posso dire sì sono simpatica è tutto sono sorridente sono solare però è quello che dice la gente ovviamente come è stata questa esperienza cosa avete fatto e quali possibilità si possono aprire ora da questo concorso per te allora è stato tutto tra prove 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 una cosa che ti ricordi di più tantissime prove però è stato bello perché abbiamo conosciuto altre un bel po' di persone tra attori registi che ci hanno notato alcuni poi qualcosa che ci può portare avanti in pratica ci può fare portare avanti non lo so mi hanno lasciato dei contatti mi hanno detto manda qualche video manda qualche fotografia mi hanno dato pure un'applicazione dove possiamo mandare sempre i nostri contatti e tutto poi magari loro si faranno sentire quindi incrocio le dita chi è Veronica Bono nella vita cosa fai nella vita sono una barista a tempo pieno proprio mi piace il mio lavoro amo il mio lavoro amo i miei clienti è un qualcosa che mi rispecchia proprio da tanti anni ormai posso dire e di questo mondo cosa ti piace ti piacerebbe continuare a avere altre opportunità del mondo della sfilata del sì sì e no mi piacerebbe tra non più non più che altro la sfilata ma mi piacerebbe buttarmi nel mondo dello spettacolo tra film qualcosa di comico perché è quello che mi rispecchia di più più che la sfilata diciamo tu ti diverti a fare dei video divertenti sì mi diverto tantissimo infatti molti mi conoscono per i video che pubblico tramite facebook addirittura mi fermano dopo che ho passato anni a picchiarmi con il mio compagno di classe d'asilo per chi facesse bloom questo come si permette io non è che guardavo le wings io sono una wings cosa c'è nel tuo futuro? amo il mio lavoro come ho già detto spero un giorno di aprirmi qualcosa di mio e magari se mi si aprono altre porte fare qualcos'altro teatro nuova replica questa sera presso l'altro inferiore del palazzo comunale di adoro il mio vicino associazione culturale chalò spettacolo che dopo aver registrato il tutto esaurito per la prima e la seconda replica torna stasera a partire dalle ore 21 adoro il mio vicino commedia brillante in due atti scritte e dirette da Antonino Genuardi che con altri 11 attori riescono a garantire per oltre un'ora uno spettacolo divertente ricco di colpi di scena battute con ritmo incalzante frutto della complicità e della sinergia tra i vari componenti del cast l'appuntamento con adoro il mio vicino è stasera le ore 21 entro il 30 settembre i soci produttori e confezionatori potranno aderire o rinnovare l'iscrizione alla doppia arancia di Ribera e al consorzio di tutela quella appena conclusa è stata un'annata record per la commercializzazione delle arance riberesi il consorzio di tutela con 292 aziende singole 6 strutture associate iscritte nel settore DOP e oltre 1000 ettari di superficie coltivata rappresenta un'importantissima realtà produttiva agricola in continua espansione per poter commercializzare le arance di Ribera con il marchio comunitario DOP sinonimo di qualità i produttori e confezionatori dei 14 comuni di Bivona Burgio Calamonaci Caltabellotta Cattori Caraclea Cianciana Lucca Sicula Menfi Montallegro Ribera Sciacca Siculiana Villa Franca Sicula e Chiusa Sclafani potranno scrivere il proprio agrumeto o il centro di lavorazione nell'elenco ufficiale della DOP fino al 30 settembre prossimo adesso i consigli della Mondadori andrà tutto bene Michael e come fai a dirlo Sara? prevedi il futuro? non prevedo il futuro ma siamo insieme no? mi volto verso il campo di cocomeri e vigne che avevamo attraversato per arrivare alla recinzione non c'è nessuno all'orizzonte se andasse male beh restiamo insieme sempre per tutta la vita una promessa fatta da bambini calda e rassicurante come una carezza come un abbraccio quando fuori fa tanto tanto freddo un fratello e una sorella Michael e Sara che una volta erano inseparabili e ora sono quasi due stranei due che pure abitando sotto lo stesso tetto si sfiorano appena e nel mezzo la vita fatta di momenti belli ma anche brutti momento in cui tutto può andare avanti oppure può interrompersi bruscamente momenti che arrivano inaspettati per dirti che tutto deve cambiare anche se non vuoi anche se non sei pronto e a quel punto poiché importa come tu devi trovare un modo per andare avanti e questo hanno fatto Sara e Michael entrambi sempre più estranei e lontani l'uno dal cuore dell'altra ma a un certo punto però qualcosa o meglio qualcuno interrompe nella loro vita facendo vacillare il loro piccolo mondo cristallizzato di nuovo Michael e Sara sono di fronte a qualcosa che potrebbe stravolgere la loro esistenza e se soltanto smettessero di vivere ogni cambiamento come una crepa dalla quale possono entrare solo cose brutte forse potrebbero riprendere il cammino interrotto tanti anni prima trovare il modo di tornare a respirare a credere nel futuro e magari infine ritrovarsi quello che non siamo diventati di Tommaso Fusari e di Tomondadori Adesso arti marziali sei atleti della Bushido Team di Sciacca e il maestro Francesco Graffeo sono stati riconfermati all'interno della Nazionale Italiana di King Boxing della Federazione VTKAA il primo raduno ufficiale si è svolto a Napoli mentre tra gli impegni egonistici di rilievo ci sono i mondiali a cui prenderà parte anche il sodalizio Saccense sentiamo primo impegno ufficiale per la Bushido Team di Sciacca presente al collegiale azzurro di Napoli il maestro Francesco Graffeo e sei suoi atleti infatti sono stati riconfermati nella Nazionale Italiana VTKAA Light Contact e Semicontact sodalizio che quindi si prepara alle prime gare della nuova stagione agonistica come ogni anno prima dell'inizio della stagione agonistica abbiamo il raduno con tutta la Nazionale Italiana noi ci siamo presentati con sei atleti quindi se i miei atleti fanno parte della Nazionale Italiana più io che ho avuto la riconferma come direttore tecnico del settore Light Contact questo è il bilancio finale dell'anno precedente noi ormai da anni che ci imponiamo nelle varie gare sia a carattere nazionale ma anche come l'anno scorso anche a carattere internazionale questo fa da preparazione ovviamente al campionato mondiale che si svolgerà il 31 ottobre ora come prossimo appuntamento abbiamo un altro collegiale in Sicilia perché ogni ogni coach del proprio settore della Nazionale faranno dei raduni in tutta Italia anche per cercare di conoscere meglio questi ragazzi in quanto a Nabil abbiamo avuto soltanto un paio d'ore quindi quella è più di altro una conoscenza fisica sapere come si chiamano a livello tecnico abbiamo avuto soltanto due ore per allenarli per quanto riguarda i ragazzi della Bushido chi sono diciamo i qualificati alla maglia azzurra sì i nazionali di quest'anno sono ormai il veterano Sclafani Alex che fa parte della nazionale credo da 4 anni 3-4 anni poi abbiamo Samuel Gigli un altro veterano della nazionale poi abbiamo un altro veterano Andrea Maniscalco che fa parte della nazionale da 3 anni e poi abbiamo i nuovi che sono Montalbano Daniele Guardino Ivan e Bivona Danilo e 5 fanno parte del settore semi-contact quindi fight point e 1 Maniscalco Andrea ce l'ho io nel settore light contact intanto voi avete ripreso diciamo l'attività in palestra gli allenamenti la preparazione atletica sì noi partiamo presto noi partiamo già il 21 agosto già i ragazzi erano scarpe da ginnastica pantaloncino per la preparazione atletica anche perché il nostro sport come in tutti gli sport ovviamente se non è una buona preparazione cardiovascolare aerobica e anaerobica poi difficilmente riesci a sfruttare quelle che sono le tue capacità tecniche quindi noi abbiamo fatto 15 giorni di preparazione atletica tutto fatto di corsa quindi separati dalle che sono a fondo scatti lavorare sul potenziamento e poi abbiamo ricominciato il lavoro tecnico diciamo che uno non può essere bravo se difetta in uno dei due quindi o nella preparazione atletica o nel discorso tecnico entrambi sono molto importanti per la crescita di un atleta e noi cerchiamo di curarli entrambi ovviamente obiettivo della nuova stagione? intanto partiamo nel cercare di riconfermare tutto ciò che di buono abbiamo fatto negli anni precedenti ora partiamo con il mondiale poi ci sarà un'altra gara a carattere regionale a Palermo il 19 cominceranno di nuovo le tre tappe PUTKA e abbiamo di nuovo la Coppa Italia che sarà se non sbaglio fine novembre di nuovo a Napoli gli obiettivi sono quelli di riconfermare sempre tutto ciò che di buono facciamo e cercare di far crescere altri atleti che per ora sono alle spalle dei più conosciuti l'associazione italiana arbitri apre le porte agli agrigentini e fino a ottobre infatti sarà avviato un corso per chiunque volesse diventare arbitro nelle partite ufficiali della FIGC le iscrizioni sono già aperte tutti i dettagli nel servizio sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il corso per diventare arbitri di calcio un'esperienza formativa per chi voglia vivere la disciplina sul terreno di gioco ma da una prospettiva diversa l'associazione italiana arbitri apre così le porte agli appassionati agrigentini che potranno avere modo di accedere alle partite ufficiali della FIGC il corso comincerà il prossimo 21 ottobre e si svolgerà all'interno della sezione AIA di Agrigento sita in via Cimarra 9 o presso gli istituti scolastici convenzionati con il progetto scuola-lavoro ed avrà la durata di due mesi al termine i candidati sosterranno una prova tecnica e una prova fisica volte a stabilirne l'idoneità al superamento delle prove gli arbitri saranno a disposizione dell'organo tecnico sezionale e saranno designati per le gare provinciali le gare dirette daranno diritto ad un rimborso spese e ogni arbitro sarà un tesserato federale status che permette di avere l'accesso gratuito in tutti gli stadi d'Italia per tutte le partite organizzate dalla FIGC inoltre gli studenti partecipanti potranno ottenere il credito scolastico e le ore necessarie per il progetto scuola-lavoro a tutti gli arbitri verrà consegnato un kit comprendente diviso ufficiale e la t-shirt istituzionale il corso è totalmente gratuito essere arbitro afferma Gero Drago presidente della sezione Aie ed Agrigento vuol dire far parte di una squadra in cui ogni decisione esemplare ed ogni errore hanno lo stesso peso per tutti fare l'arbitro di calcio è un'esperienza formativa importante perché ti permette di crescere come uomo o donna in modo diverso dagli altri un arbitro impara a prendere decisioni in pochi istanti a comunicare in modo efficace ed essere concentrato in ogni momento della partita così come nella vita attualmente l'AIA provinciale conta 160 tesserati la società tennis club sciacca presso i campetti comunali della perriera avvia oggi l'attività della scuola di tennis con delle prove gratuite per i nuovi allievi i ragazzi tra i 5 e i 18 anni possono provare a giocare con i tecnici federali dell'associazione la scuola di tennis sarà diretta dall'istruttore di secondo livello Flavio Giacalone assistito dagli altri due istruttori federali Domenico Caracappa e Francesco Sclafani obiettivo della società la qualità e la cura degli allievi il tutto in attesa di inaugurare anche la nuova stagione agonistica con i vari campionati siamo in chiusura per questa edizione grazie ancora una volta per essere stati con noi rinnoviamo l'appuntamento alle prossime grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.